Buona giornata amici oggi è sabato 28 agosto 2021 iniziamo la giornata leggendo insieme i giornali a partire dal resto del carlino e dal corriere adriatico ma prima però procediamo con il santo del giorno e con il meteo oggi è sant'agostino uno dei santi più noti della chiesa cattolica sant'agostino si chiamava in realtà aurelio agostino era di ipona è stato vescovo di ipona nato a tagaste nel 354 è stato uno dei teologi più importanti della chiesa cattolica dottore proclamato appunto dottore della chiesa all'inizio era un ragazzo un po' scapestrato amava la vita amava i suoi piaceri poi si è convertito ha studiato molto filosofia e forse da quei testi ha tratto la sua conversione e sono noti i suoi libri ha scritto dei libri importanti basilari per la teologia la città di dio soprattutto le confessioni un libro che non dovrebbe mancare nelle biblioteche di chi si interessa appunto di religione e di filosofia ora passiamo al meteo e vediamo che il tempo rimane perturbato su tutta la regione Marche nella nostra provincia c'è un fronte instabile che è in transito soprattutto nel pomeriggio e porterà rovesce temporali da ovest verso est c'è ancora un calo termico la temperatura si abbassa il peggioramento previsto soprattutto sulla provincia di Pesaro Urbino nel pomeriggio ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dalla sintesi tratta delle prime pagine sul resto del Carlino sulla dedizione di Pesaro così come poi sul Corriere Adriatico vediamo che il tema principale è quello della sanità prof e vaccini la guerra della scuola intitola il Carlino in 150 non immunizzati vanno dall'avvocato il racconto di una preside in regola o qui non entrano ha dichiarato risoluta proprio così come sono un po tutti i dirigenti scolastici delle scuole superiori e poi la notizia di sport a centropagina il nostro 35 per cento fa la differenza si parla di vl quindi di basket sono i posti limitati al palace summit per quanto riguarda gli abbonamenti la questione economica è importante anche per procedere allo sport alle gare che dovranno essere disputate all'interno del palace e poi la cronaca tenta di vendere 16 quadri al tavolino del bar erano stati rubati in una villa ma poi arrivano i carabinieri ladro in camera mentre lei guarda la tv in salotto speriti i gioielli e poi a gabice lite con la moglie arrivano i carabinieri e lui li aggredisce le altre notizie le altre notizie la campagna vaccino poche dosi somministrate trend in calo a fine agosto e per quanto riguarda fano e il voulon entra nell'olimpo delle maschere italiane insieme a darlecchino a pulcinella a brighella insomma alle maschere più note ancora sfondo pagina lo sport la vissa siena deve giocare più gare in una poi vedremo perché e poi sport e polemiche pizza comune adesso volano gli stracci sul corriere adriatico invece le sintesi sono tratte sempre dalla sanità nidi e materne nodo green pass il comune ha redatto il protocollo si parla del comune di pesaro il comune ha redatto il protocollo che deve disciplinare l'imminente ripresa dell'attività pedagogica e poi ancora gli effetti del maltempo li vedremo poi su due facce quello delle invasione della melma soprattutto nella ristorante la giara nei pressi di santa maria dell'arzilla ma anche per gli effetti di inquinamento che ha provocato nel litorale dell'arzilla il torrente come una cloaca su un articolo di furlani questa mattina sulla pagina di fano a pesaro notte di accessi assale la ragazza e poi carabinieri e per quanto riguarda il cavalca ferrovia che porta nella zona di pantano dalla stazione ferroviaria è stato concluso il primo step di interventi un appoggio alla candidatura di pesaro a capitale della cultura proviene da rimini ma anche dalla città che adesso ha avuto questo titolo endorsement del sindaco di rimini andrea ignassi per la candidatura di pesaro la capitale italiana della cultura e vediamo l'interno del corriere adriatico a partire dal resoconto del covid contagi e incidenza lenta risalita purtroppo ma l'estate sembra essere in salvo il dato di 81 per 100.000 è il più alto del mese ma resta lontano dalla soglia dei 150 che implica il passaggio alla zona gialla per l'istituto il rischio rimane basso intanto dieci regioni passano in area moderata vediamo qualche dato i ricoverati in intensiva rimangono invariati in semi intensiva invece sono più tre mentre i ricoveri totali sono più quattro i decessi rimangono invariati insomma non ci sono stati per fortuna il totale dei tamponi aumenta di 2424 in più quattro novax qui e tre in calabia i procedimenti sui sanitari avanzano cantiere alla palizzina per il covid genga che è il dirigente delle irca ma speriamo di non ricorrere a riorganizzazioni forti insomma c'è anche preoccupazione in regione per quanto riguarda il trend di questa contaminazione che sembra non voler arrestarsi le case di riposo in bilico niente ristori a settembre sono 3.000 rischio e meno 30 gli ospiti che vengono appunto che sono degenti in queste case vichi che è presidente del comitato ente gestori alla regione ci hanno detto soldi terminati ma così dovremo lasciare fuori tanti anziani e livelli di personale saranno tagliati quindi effetti sociali oltre che sanitari per quanto riguarda la pandemia e per quanto riguarda le scuole vediamo che lo scoglio green pass determina nuove polemiche sono regole che non possono essere derogate quelle che ha varato il ministero e quindi i presidi si attengono a queste il comune di pesaro ha redatto il protocollo per disciplinare la ripresa dell'attività pedagogica così come ha fatto quello di fano i controlli rompicapo da sciogliere il problema delle educatrici non ancora vaccinate un articolo questo tutto da leggere per chi ha dei figli che devono andare a scuola ma anche per gli insegnanti stessi che devono svolgere l'attività didattica il protocollo dei servizi educativi non fa altro che equiparare i plessi a gestione comunale o mista tramite cooperative alle altre scuole statali e pubbliche con l'obbligo di green pass dal primo settembre al 31 dicembre prossimo per maestre e altro personale tra cui gli ausiliari le pedagogiste i cuochi del servizio messa gennari e falcomer il congedo preziose per allunni e docenti sono due dirigenti che hanno lavorato sia pesaro che a fano ieri sono state ricevute dal presidente della provincia paolini al posto di anna gennari e insomma ovviamente il presidente paolini ha ringraziato queste due dirigenti scolastici per l'impegno con cui hanno portato avanti l'organizzazione della scuola in tempi non facili al posto di anna gennari diventerà dirigente del bramante genga la professoressa cinzia biagini proveniente dalla dirigenza del comprensivo pirandello la preside renata falcomer del liceo scientifico torelli di fano e della sua sede distaccata di pergola lascia il testimone invece al dirigente raffaele balzano giriamo ancora la pagina e vediamo l'appoggio che il comune di pesaro ha avuto da procida che è l'isola la città ora capitale della cultura ma anche da rimini che ha rinunciato al suo ruolo tutti e due entrambi annunciano che sosterranno la candidatura di pesaro e con il capoluogo romagnolo la città è ancora in corso per l'euro vision insomma due appuntamenti importanti per la provi per il capoluogo di pesaro che poi magari si propaga gli effetti positivi ottenuti anche sul resto della provincia alla biblioteca oliveriana di pesaro vediamo un un dono importante si tratta della ristampa di pigafetta l'omaggio proviene dall'ambasciata del cile si tratta della riproduzione di primer weyer al redodor del mondo di antonio pigafetta donato dalla detta culturale dell'ambasciata cilena alla città di pesaro che da oggi fa parte delle meraviglie custodite appunto nell'istituto insomma un libro importante sia dal punto di vista grafico proprio che come rilegato come stampato eccetera ma anche dal contenuto in mezzo al fango ma tanti ci aiutano sono commosso parla così il titolare della giara che in questa foto mostra alcuni danni provocanti dal fango insomma devastazione e degrado per quanto riguarda questo temporale che si è verificato in modo violento nel nostro territorio protezione civile volontari al sostegno del locale difficile ha detto il titolare trovare anche un'impresa di polizia di polizia di polizia quindi è importante il sostegno di coloro che in maniera del tutto gratuita spontanea hanno aiutato questo imprenditore a ripulire il suo esercizio acquedotto raddoppiati gli interventi per le rotture c'è stata nella giornata di ieri un'altra rottura della condotta idrica principale in località rosciano una località da cui proviene poi la tubatura che dal che prelevando l'acqua dal metauro arriva fino a pesaro la rottura è stata possibile essere rilevata subito grazie al telecontrollo e grazie anche alla professionalità dei tecnici e di marche multiservizi è stata riparata subito senza provocare danni come è accaduto nella rottura precedente alla fornitura pesarese. Cavalca Ferrovia ha concluso il primo step dei lavori ora i lavori sulla corsia periferia centro il cantiere è partito ad aprile con restringimenti della careggiata il comune ora attende gli esiti del bando ministeriale l'area è stata cantierata nei mesi scorsi così come si evince dal titolo per mesi in precedenza gli automobilisti avevano visto i ristringimenti sul ponte della ferrovia senza nessun operaio al lavoro tanto che in più occasioni c'erano state lamentele. L'inizio dell'intervento aveva subito poi ritardi ma ora sembra che i lavori almeno per quanto riguarda la prima tranche siano conclusi e si procede per la corsia periferia centro. E veniamo alla cronaca notte brava di un giovane in vacanza aggredisce la ragazza ai carabinieri troppo alcol è stato arrestato ha patteggiato e chiesto scusa aveva trascorso la serata alla baia da poco riaperta. Si tratta di un giovane che però aveva anche dei precedenti infatti ha patteggiato a dieci mesi ma avendo appunto dei trascorsi per reati specifici sempre di minacce e resistenza la pena non è stata sospesa. Ora è libero ma con obbligo di dimora nel suo comune di residenza che è Castel Bolognese. Ha capito la gravità del suo gesto ha spiegato l'avvocato Mattioli uscendo dall'udienza quando la condanna diventerà esecutiva cercheremo un percorso di riabilitazione ha detto sempre l'avvocato alternativo con lavori socialmente utili. E poi preso un corriere di quadri rubati rocambolesco giro da San Giovanni di Marignano a Gabice passando per la Romania e appunto un rumeno che tentava di smerciare 16 tele rubate nell'abitazione di una signora San Giovanni Marignano che erano state valutate complessivamente 35 mila euro ma invece del compratore si è visto arrivare i carabinieri che gli hanno messo le manette. A Monteporzio va riaperto il punto prelievi chiuso da mesi. Lo chiede la CISL al fianco degli utenti che chiedono di riattivare il servizio. Si tratta di un servizio importante per Mondolfo, per Monteporzio, insomma per tutta la zona in quanto è un presidio anche per effettuare un semplice prelievo di sangue e se non c'è appunto occorre coprire parecchia distanza. La pagina di Urbino. All'Ateneo per i contagi dei vaccinati in tanti rinunciano alla seconda dose. Il rettore Giorgio Calcagnini sulla ripresa dell'attività didattica in presenza. Formiamo il personale adetto per i controlli a campione sul Green Pass e dal 1 settembre al 31 dicembre gli studenti universitari devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza. Altrimenti si resta fuori. E veniamo a Fano. A Fano è veramente un caso quello che si è verificato alla foce dell'Arzilla. Il torrente Cloaca cielo aperto, inquinamento massivo in mare, vietata la balneazione nel litorale dell'Arzilla e del Lido, batteri fecali fino a 43 volte oltre il limite di legge e il comune tace, dice il Corriere Adriatico. Più che un torrente l'Arzilla è diventata una cloaca. Ci sono dati impressionanti, quelli rilevati dall'ARPAM mercoledì e giovedì scorsi. Un campionamento eseguito alle 13.15 nel punto di balneazione denominato 30 metri in nord torrente Arzilla ha rilevato una presenza di enterococche intestinali 43 volte superiore al limite di legge per la balneazione. Insomma, dei valori impressionanti. E sembra che non abbia a questo punto sortito a effetto, anche se ha funzionato, la vasca che è stata fatta alla voce dell'Arzilla, dove avrebbero dovuto confluire tutte le acque cariche di batteri superiore al limite del torrente per poi portarle al depuratore di Ponte Metauro. In realtà il direttore di Aset aveva sottolineato che la vasca di prima poggia aveva funzionato trattenendo le acque miste dei due scolmatori della zona, convogliandole al depuratore, ma evidentemente questa vasca non basta. E vabbè, si dice sul giornale che si tratta di un evento eccezionale, ma basta una volta per salutare ancora una volta la bandiera blu per il prossimo anno. Speriamo che questo problema si risolva o almeno non si ripeta. Il Voulon tra le maschere storiche, l'iscrizione qualifica il Carnevale di Fano. Gian Marioli ora ha nuovi progetti per promuovere la città, oggi i carri in centro. Questa sera e domani sera si svolge la seconda fase del Carnevale di Fano, questa volta in centro storico, dopo che il weekend scorso si è svolto in Sassonia. E poi sei formelle per l'identità di un quartiere, alle 18 si inaugura nella Pinacoteca di San Domenico la mostra che poi è allestita nella Sala Morganti di sei piatelletti, di sei formelle in maiolica del XVI secolo che facevano parte del meraviglioso pavimento della Chiesa di Santa Maria del Riposo. Finalmente Fano avrà una testimonianza di questa risorsa culturale che è stata dispersa alla fine del 1800. Aveva con sé solo 11 frammenti custoditi dai musei civici. Ora la Fondazione potrà esporre nella sua sala di rappresentanza sei piatelletti integri, sono solo un po' rovinati dal tempo e dall'usura, ma che testimoniano la bellezza e l'importanza di questa risorsa culturale che è stata suddivisa in diversi musei del mondo, tra cui il Livre, il Louvre, c'è a Londra, a Budapest e via dicendo. Un'ultima notizia sul Corriere Adriatico, sfondamento della linea gotica, foto storiche, emozioni e parole, oggi e domani la rievocazione a Montemaggiore sul Metauro nella memoria di Churchill. E veniamo al resto del Carlino. Saltiamo le notizie che sono state un po' già lette sul Corriere Adriatico, che sono ugualmente evidenziate dal Carlino. Salvo questa, la Preside mette in piedi i checkpoint. I docenti non immunizzati restano fuori. Angela De Marchi guida l'Istituto Comprensivo Gaudiano di Pesaro ed è pronta ad organizzare i controlli sulla base delle normative. Dovrò incaricare, ha detto, dei miei delegati per verificare ogni mattina il possesso dei Green Pass. Non sono ammesse scorciatoie. Quindi veramente una presa di posizione risoluta. vaccinazioni di fine agosto col contagocce. Giovedì all'ospedale di Muraglia erano solo in 95, ma ora si attende che scatti l'effetto scuola. I numeri ovviamente aumenteranno in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Sì, i numeri potrebbero rialzarsi, ha detto. La fascia d'età tra i 20 e i 29 anni è al 71% di prime dose, meglio di trentenni e quarantenni. Quindi i ragazzi stanno battendo la fascia d'età superiore. Vediamo anche questa notizia di cronaca. Razzia di gioielli mentre la famiglia è alla tv. I ladri sono penetrati in camera da letto senza farsi scoprire. Molto silenziosi quindi. In una casa di via Negrelli e poi in un'altra casa nel lungofoglia delle Nazioni è sparito un costoso scooter Max. Nella zona di Piazza Redi c'era una donna che era in salotto, ma a sua insaputa i ladri sono riusciti a penetrare senza essere visti nella zona notte, ossia in camera da letto. Qui hanno trovato facilmente i gioielli lasciati nei cassetti del Comò per un valore superiore ai 9 mila euro. E poi ieri mattina tra le 10 e le 11 uno scooter Max in via lungofoglia delle Nazioni è stato rubato. Non è chiaro se il mezzo fosse stato chiuso, immobilizzato, ma è certo che il malvivente ha impiegato pochissimo tempo per prendere possesso del costoso scooter. Da giorni ormai si hanno furti in serie di biciclette e ciclomotori lungo le strade della zona mare con rari casi di ritrovamento. Quindi fate molta molta attenzione. Il nuovo ospedale non lo faranno. Questa è una dichiarazione di Biancani, Sanità. Il PD riaccende lo scontro. Biancani, consigliere regionale, dice l'attuale maggioranza, ha affossato i nostri progetti. Siano chiari sull'azienda Marche Nord. Il PD rimpiange ancora la decisione della Giunta regionale di rivoluzionare il programma sulla sanità. Andrea Biancani, ospite della Festa dell'Unità, insieme a Micaela Vitri, anche lei consigliere regionale del PD ha detto che i soldi erano già pronti ed individuati durante la precedente legislatura. Avevamo affrontato un confronto elaborato per una struttura d'eccellenza, ma tutto questo oggi è chiaro che non ci sarà più per volontà della Giunta regionale. Questo era un dato di fatto che già sapevamo perché la Giunta, coerente a quello che aveva preannunciato in campagna elettorale, ha modificato tutto il programma della sanità. È come un rimpianto da parte del PD. Ed ora vediamo ancora cronaca sul resto del Carlino. Schiaffi alla compagna e minacce ai carabinieri. È stato arrestato. Si tratta di un 28enne di Ravenna, già noto per gli stessi fatti, bloccato davanti alla baia imperiale di Gabicce Monte. E poi ancora la notizia del sequestro di 16 quadri rubati da parte di un ladro che proveniva dalla Romania. Sulla pagina di Fano, anche il resto del Carlino parla del Voulon, come Arlecchino e Pulcinella, il personaggio simbolo del Carnevale fanese è entrato nel registro storico delle maschere italiane. E poi ancora un ritorno sul problema della vasca dell'Arzilla che viene evidenziato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. I consiglieri di minoranza chiedono un censimento e un monitoraggio degli scarichi nel torrente e nel canale urbani. Ma ormai la situazione si fa ben più grave in quanto veramente non si è mai visto un inquinamento così alto, così grave come quello che si è verificato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda la Val Cesano, riaprire subito i punti prelievi di tutte le località che sono interessate nella Val Cesano, la protesta della Cislefano e dei pensionati. Un grave disservizio e ora temiamo che le chiusure nei vari comuni diventano definitive. Ancora vediamo sulla pagina sempre dell'interno, accogli al metauro, Churchill ritorna sulla linea gotica. Montemaggiore rievoca oggi e domani la battaglia del 1944. Diamo un'occhiata anche alla pagina sportiva. In conclusione, la Vis va a Siena e deve giocare più gare in una. Perché? Vediamo l'allenatore Bianchini sull'esordio di domani alle ore 20 e 30 in campionato. Dobbiamo essere capaci, ha detto, ogni volta di leggere il momento. Domani alle 20 e 30 inizia il campionato della Vis a Siena. Che gara si aspetta? L'allenatore Bianchini chiede Davide Usebi appunto al tecnico e lui dice un bravo allenatore deve iniziare a pensare non a una ma a due e più partite all'interno della stessa gara. Il Siena ha investito tanto, avrà voglia ed energia positiva e aggressiva e noi sfrutteremo il nostro peso dell'esperienza. Per quanto riguarda la promozione vediamo Mondolfo e Marotta per vincere e c'è l'intesa con l'Atalanta. Il direttore sportivo Pretelli, la squadra rappresenta l'unione di due paesi. L'entusiasmo è raddoppiato. Il fanocalcio, il caso Samb blocca i gironi. Erano attesi per questa settimana ma rischiano di slittare. Ci sono due società che reclamano il titolo e la categoria dei Rosso-Blu. E dunque si avvia verso la conclusione il mini ritiro dell'Alma rivisondoli. Domenica pomeriggio amichevoli contro una formazione del luogo. Poi lunedì dopo un'ultima rifinitura. La squadra si trasferirà a Fano per continuare la preparazione al Mancini. Basket, gli abbonamenti, l'aspetto economico è importante. L'abbiamo già detto nei giorni scorsi. Non solo quello sportivo per il mantenimento della squadra. L'AVL è pronta al decollo. Ieri sera riunione del CDA per decidere le ultime modalità. Amadori, il 35% con il Mega Palace che abbiamo finalmente ci aiuterà. Il 35% delle presenze è qualcosa che corrobora rispetto a una percentuale inferiore che era stata ventilata nei giorni scorsi. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento al notiziario di questa sera delle ore 20 e 30. Lunedì la rassegna stampa riprenderà con il direttore Marco Ferri. Buona giornata.